Amici Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di mercoledì, che vedrà il graduale allontanamento di questa zona di bassa pressione verso i Balcani, quindi tempo in miglioramento sull'Italia, anche se variabilità e instabilità restano le parole d'ordine. Per quanto riguarda nuvolosità, come vedete non mancheranno ampie schiarite, però in giornata qualche nuvola si farà ancora vedere, soprattutto nelle regioni centro-meridionali, dove in effetti anche come precipitazione avremo qualche acquazione e qualche piovasco, però in forma meno diffusa, meno intensa, un po' a macchia di leopardo e per lo più di breve durata. Quindi in definitiva ci attende un mercoledì ancora un po' variabile, diciamo soprattutto Italia centrale e in parte anche il sud peninsulare, però non mancheranno anche in queste zone delle pause con qualche bella apertura e miglioramento più deciso invece al nord e nelle estreme regioni meridionali. Attenzione per finire anche al vento che ancora si farà un po' sentire. Per tutti i tali sulle vostre località consultate l'app gratuita di Trevi Meteo.